E' polemica fra Nomuos e Nomuos da un lato e fra il movimento Nomuos di sinistra e la polizia dall'altro, a quasi 48 ore dagli scontri di piazza che hanno animato il sabato pomeriggio palermitano. Il bilancio finale sembra essere quello di tre persone ferite che hanno fatto ricorso alle cure mediche in ospedale, oltre una decina di ulteriori contusi, a quanto pare tutti appartenenti ai centri di sinistra, ex carcere e anomalia. Una circostanza che causa la reazione dei manifestanti di sinistra secondo i quali la carica della polizia sarebbe stata ingiustificata. Gli attivisti del movimento Nomuos parlano di una vera e propria aggressione nei confronti di manifestanti a volto scoperto e disarmati senza alcun oggetto atto ad offendere. Diversa la posizione dei manifestanti invece della rete Nomuos, quelli di destra. Secondo il portavoce della rete, un gruppo di qualche decina di attivisti di sinistra avrebbe inscenato un blocco per impedire il passaggio del corteo della rete, regolarmente autorizzato dalla questura e che si stava svolgendo pacificamente e senza bandiere di partito. La ricostruzione delle forze dell'ordine è abbastanza precisa. Identificato un gruppo di manifestanti antagonisti, questi sarebbero stati invitati ad allontanarsi dai funzionali della Digos per evitare il contatto fra le due fazioni, quella di destra e quella di sinistra. Le forze dell'ordine, poste a scorta del corteo autorizzato, visto che la situazione rischiava di degenerare, avrebbero eseguito una carica di alleggerimento. Attualmente sono al vaglio delle inquirenti fotografie e video riprese dalla Digos ed è probabile che scattino una quindicina di denunce per soggetti in via di identificazione. Impossibile dunque trarre un bilancio finale, fino ad ora si registrano una persona fermata, cinque denunciati a pedelibero, tre feriti come detto, una quindicina di contusi e altre tante persone in via di identificazione per le quali potrebbe scattare la denuncia per blocco stradale e manifestazione non autorizzata.